Austeri riti militari in occasione del genecliaco del sovrano. In un aeroporto dell'Italia settentrionale, il comandante di una squadra aerea passa in rassegna gli equipaggi di uno stormo, a cui verrà consegnata la nuova bandiera. La benedizione della bandiera. La consegna delle ricompense al valore agli equipaggi dello stormo che si sono distinti in azioni di guerra. La sfilata degli equipaggi. Le famiglie dei caduti. In una base navale, la consegna delle ricompense al valore agli ufficiali di marina, marinai, giornalisti ed operatori cinematografici che si distinsero nell'azione navale di Punta Stilo. Il giornalista Arnaldo Cappellini. Gli operatori cinematografici dell'Istituto Nazionale Luce, decorati al valore, Lamberto Urbani. E Angelo Iannarelli. El giornalista Arnaldo Cappellini. E Angelo Iannarelli. Gli operatori noticing specialist.